Musica Condannato a 4 anni e 9 mesi il 38enne di Iserni è arrestato con l'accusa di essere re dello spaccio in città. Dalla asata di Pozzilli l'annuncia sorpresa di una nuova commessa. Nell'attesa per i 50 lavoratori scatteranno i contratti di solidarietà. Ancora episodi di violenza nel centro storico di Campopasso, giovani extracomunitari si sono presi a bottigliate. A Venafro, grazie ad oltre un milione di euro del PNRR, è in corso la ripavimentazione di oltre 60 strade. Nella settimana rosa, porte aperte al reparto di ostetricia del Veneziale. Bene, buongiorno e benvenuti all'appuntamento con la nostra informazione. L'informazione di TV Molise, canale 12, alle 13.30 ogni giorno. Buongiorno ai telespettatori del Molise e a quelli che dall'Abruzzo ci seguono sempre più numerosi. Cominciamo subito con l'apertura relativa alla Duracontan per uno spacciatore di cocaina arrestato nel 2023. Ci racconta tutto Antonio Leone. Condannato in primo grado a 4 anni e 9 mesi, il 38enne Isernino arrestato con l'accusa di essere a capo di una banda di pusher dedita a smerciare cocaina e altre sostanze stupefacenti nel capologo Pentro e nel suo Interland. La sentenza dei giudici del Tribunale di Isernia, dopo che il giovane ha scelto il rito abbreviato, il pubblico ministero per lui aveva chiesto una pena di 6 anni. Le indagini condotte dalla squadra mobile e coordinate dal procuratore Fucci sono culminate nel febbraio del 2023, quando sono state eseguite 8 misure cautelari nei confronti di altrettante persone per reati di detenzione e spaccio di droga. L'inchiesta degli agenti della questura Pentra aveva portato alla luce un quadro molto preoccupante. Il 38enne, già con precedenti, ha accusato di aver acquistato ingenti quantitativi di cocaina e cannabis a Roma per poi immetterla direttamente nel mercato Isernino o consegnarla ad altri pusher che in un secondo momento avrebbero ceduto parte dei proventi allo stesso fornitore. Per questo motivo, subito dopo il blitz, quest'ultimo era finito nel carcere di Regina Celi. L'attività investigativa è andata avanti per mesi, intercettazioni telefoniche e ambientali, con cimici posizionati all'interno dell'auto del 38enne che avrebbero dato conferma dei continui viaggi andati in ritorno da Roma al Molise. Un mercato molto redidizio, quello messo in piedi dall'Isernino. Per questo motivo il GIP aveva disposto anche il sequestro preventivo di 70.000 euro di beni in suo possesso. Una vasta operazione antidroga dunque coinvolte due province, Isernia e Roma, con otto spacciatori finiti nella rete delle forze dell'ordine. Ora è arrivata la condanna in primo grado per quello che è stato definito la mente dell'intero giro d'affari. Vi ricordate che abbiamo dato in anteprima la notizia del blocco del depuratore del Consorzio Industriale di Pozzilli a causa dello sversamento di liquidi non ammessi e non compatibili. Ora il depuratore è tornato in funzione. Ci aggiorna tutto Cristian Ciarlante con il suo servizio. Torna in funzione dopo diversi giorni di blocco il depuratore del Consorzio Industriale di Pozzilli messo fuori uso dallo sversamento abusivo di vernici e liquidi solvibili di lavorazioni industriali. Dopo aver riscontrato il problema ed informato tempestivamente le autorità competenti è stata attivata da subito una gestione emergenziale dell'impianto che ha consentito, nonostante la grave problematica, di non interrompere mai il trattamento dei reflui. Grazie all'impiego di sostanze chimiche e integratori biologici è stata ripristinata anche la flora batterica, fondamentale nel trattamento biologico dei reflui. I controlli di laboratorio hanno confermato oggi il ritorno alla piena normalità di tutti i parametri analitici delle acque in uscita dal depuratore e consentito di ripristinare completamente la funzionalità dell'impianto. Due minorenni a pronto soccorso di Campobasso, due minorenni extracomunitari si erano presi a bottigliate nel centro storico, un centro storico che sta diventando come il Bronx. Sentiamo il servizio di Francesco Adamo. Un vero e proprio caos quello che si sta vivendo all'interno del centro storico del capoluogo regionale. Solo due giorni fa vi abbiamo raccontato dell'operazione della squadra mobile contro lo spaccio di sostanze stupefacenti avvenuta proprio nel borgo antico. Eppure sembra non bastare perché nelle scorse ore si è registrata l'ennesima lite fra cittadini extracomunitari, evidenziando le perplessità e le paure dei cittadini riguardo la sicurezza. Un litigio partito fra giovanissimi parebbe per futili motivi. La situazione è degenerata in pochissimi minuti quando i coinvolti hanno iniziato a prendersi a bottigliate. Nello specifico i fatti si sono verificati in via Palumbo, sul posto immediato arrivo delle forze dell'ordine. Dopo segnalazione dei residenti, sono stati identificati due minorenni successivamente portati al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli di Campobasso. Fortunatamente le lesioni sono riscontrate poco gravi. Al vaio degli inquirenti le diverse telecamere installate nella zona per capire l'eventuale coinvolgimento di altre persone. E ora passiamo alla cronaca sindacale. Una buona notizia in arrivo dalla SATA di Pozzilli. Ci dice tutto. Domenico Marzocchella. La SATA è salva dal direttore di stabilimento l'annuncio delle nuove commesse nel corso dell'incontro tenuto nella fabbrica di Pozzilli con i sindacati. In rappresentanza dei lavoratori, i referenti regionali di FIOM CGL e FIM CISL insieme alle RSU. A dicembre, l'azienda metalmeccanica inizierà la produzione di collettori per motori di furgoni destinati anche allo stabilimento Sevel in Abruzzo. Al momento l'accordo non è ufficiale, ma tra i sindacati filtra ottimismo. Fin qui, nonostante la nostra incessante interlocuzione con l'azienda, di soluzioni non ne erano arrivate. E con la commessa con Stellantis di Termoli in scadenza proprio in questo mese di maggio, i contratti di solidarietà apparivano come l'ultimo step prima della chiusura. Rimarca il segretario regionale di FIOM CGL Gianluca Falcone. I 50 dipendenti esauriranno la cassa integrazione a rotazione e tra una settimana al rientro smaltiranno le ferie residue fino all'attivazione, probabilmente entro giugno, dei contratti di solidarietà che ora, invece di prefigurare il fine corsa, saranno una soluzione ponte fino alla nuova commessa. È quanto si augurano tutti i lavoratori. E non si ferma la campagna elettorale di Aldo Patriciello, candidato alle europee per la Lega. Vediamo ieri sera dove stava Aldo Patriciello. Ce lo dice Michele Visco. Continua la campagna elettorale dell'onorevole Aldo Patriciello per le europee. Il candidato della Lega incontra gli amici e sostenitori della Valle del Volturno. Abbiamo discorso con l'onorevole delle tematiche e soprattutto di quella che sarà questa campagna elettorale. Che messaggio deve passare dopo questo incontro? Che il Molise esiste. Contrariamente a quegli slogan che il Molise non esiste. Ed è questa la riprova. Sono portatore di volontà, di desiderati, di progettualità, soprattutto dei molisani. Di continuare a far valere la voce del Molise nelle istituzioni europee. Questa campagna straordinaria, bella, incontrando migliaia di persone. La cosa più affascinante, che più mi dà carica, mi dà forza per continuare alla grande questa competizione fino all'ultimo giorno per arrivare all'8 e al 9 di giugno. Sono convinto che sarò e tornerò ad essere rappresentante del Molise e nell'istituzione europea. Chiaramente il prossimo Parlamento sarà un Parlamento particolare, un Parlamento che dovrà affrontare i tremi come il cambiamento climatico, dovrà affrontare tutta una transizione energetica, cioè dovrà affrontare il tema dell'agricoltura, il tema della pesca, temi importanti che bisogna in qualche modo tutelare affinché questi temi non siano penalizzanti per il sistema paese-italiano e soprattutto per il mezzogiorno. E oggi Isernia è la capitale nazionale della cardiologia e della chirurgia vascolare. Perché? Ce lo dice Antonio Leone. No e Trust, conoscersi e fidarsi, questo è il titolo del simposio biennale che da stamane fino a sabato si svolgerà all'Hotel Europa di Isernia, focus sulla chirurgia vascolare e sulla cardiologia con ospiti e interventi di alto livello. Un'opportunità soprattutto per i professionisti che operano in Molise e che hanno la possibilità di confrontarsi con i massimi esperti del settore, come ha spiegato il responsabile scientifico dell'iniziativa, il dottor Luca Iorio. Abbiamo voluto organizzare questi tre giorni di eventi su Isernia, soprattutto invitando e siamo contenti anche della partecipazione di oltre 50 colleghi, direttori delle più importanti strutture cardiovascolari presenti sul territorio italiano, anche per cercare un confronto. Per quanto riguarda la chirurgia vascolare, il Molise non ha nulla da invidiare ad altre realtà territoriali anche più grandi con delle eccellenze che caratterizzano la sanità pubblica. C'è una grande qualità e ripeto, noi oggi riusciamo a poter sviluppare quelle tecniche mininvasive che richiedono un livello di conoscenza, un livello tecnologico piuttosto impattante senza nessun tipo di problema. A confermare il buono stato di salute delle cardiologie molisane, anche il dottor Francesco Versaci, già primario a Isernia, è uno dei massimi esperti di chirurgia vascolare. È la migliore espressione della sanità molisana, proprio perché è un concetto di equità che riesce a dare attraverso la costruzione proprio di una rete tempodipendente per l'infarto la stessa opportunità di cura a tutti i cittadini del Molise. Nelle patologie che riguardano il cuore, il fattore tempo è fondamentale anche in questo caso. I progressi registrati nella sanità molisana negli ultimi mesi sono evidenti a sostenerlo. La dottoressa Colavita, primario di cardiologia del Cardarelli di Campobasso. Abbiamo la teletrasmissione dell'elettrocardiogramma dal territorio. L'unità operativa di Campobasso referta tutti gli elettrocardiogrammi che vengono effettuati sulle ambulanze del 118 ed in tempo reale viene refertato e c'è un contatto diretto con il personale dell'ambulanza. Oltre 60 strade di Venafro saranno rimesse, risistemate. Vediamo come nel servizio di domenico Marzocchella. 61 strade riasfaltate in molti quartieri, anche nelle frazioni. A Venafro i mezzi d'opera sono a lavoro da settimane e lo saranno ancora per molto. L'obiettivo del comune, rimarca il sindaco Alfredo Ricci, il completo rifacimento del manto stradale cittadino. La prima fase, in corso, finanziata con importanti risorse dal PNRR, ammontano a 1.200.000 euro erogati dal Ministero. Un intervento così massivo, parliamo di un finanziamento di 1.200.000 euro, non era mai stato eseguito, che io ricordi. È una scelta non casuale. Quando si parla di programmazione, ci sono degli step che poi consentono di raggiungere questi risultati. Siamo in attesa dello scorrimento della graduatoria per l'accesso ad ulteriori fondi di pari importo, ancora il sindaco. Noi abbiamo un altro progetto che abbiamo seguito, insieme in particolare al vice sindaco, che è assessore ai lavori pubblici, che prevede appunto di intervenire per un importo sostanzialmente equivalente su tutte le strade cittadine che sono state al momento non ricomprese in questa prima parte di interventi. È chiaro, siamo in corso per avere poi il finanziamento necessario, però ci stiamo lavorando, come abbiamo fatto d'altronde in passato, e siamo fiduciosi che questo secondo finanziamento potrà arrivare in tempi ragionevoli. Una delle aree che saranno ripavimentate con il secondo step di lavori, quella del Lungorava. Le sue precarie condizioni spingono da tempo i residenti a chiedere interventi. Insomma, Venafro, grazie al PNRR si stanno tappando molte buche, letteralmente. E grazie ai fondi del PNRR lavori anche a Campobasso nella Villa de Capua. Francesco Adano. Da questa mattina i cancelli della Villa de Capua sono sbarrati per l'inizio dei lavori che termineranno il 31 dicembre 2024. Chiusi entrambi gli ingressi, quello principale in piazza Falcone e Borsellino, sia quello di via Augo Petrella. Per qualche mese i Campobassani faranno quindi a meno della villa, ma saranno appagati dal fatto che alla riapertura la villa sarà restituita alla città completamente restaurata in tutte le sue componenti ed in tutto il suo splendore. Il recupero e la riqualificazione della Villa de Capua si faranno grazie al PNRR. Il progetto prevede una spesa di 2,2 milioni di euro. L'obiettivo, quello di rinnovare e conservare la villa comunale nel suo aspetto architettonico e naturalistico per renderla un luogo di fruizione pubblica e di diffusione culturale attraverso la valorizzazione della biodiversità presente nel giardino. La villa originale del Settecento, facente parte dell'ex monastero di Santa Maria delle Grazie, fu edificata da Andrea de Capua. Inizialmente i monaci la usavano come parco di coltivazione delle erbe e per la preparazione dei medicinali. Successivamente fu acquistata dai privati e risistemata come zona di passeggio. Fu donata alla città di Campobasso nel 1875 dall'ultima proprietaria, Marianna de Capua. E intanto a Isernia, all'ospedale di Isernia, continua la settimana rosa per le neomamme. Vediamo quali sono le iniziative. Un reparto a misura di neomamme in cui il parto diventa un'esperienza da vivere in sicurezza e con la felicità che deve sempre contraddistinguere l'arrivo di un nuovo nato nella settimana rosa organizzata da Asrem, porte aperte a ostetrici e ginecologia dell'ospedale di Isernia. Il personale medico e sanitario ha accolto tante gestanti che hanno voluto saperne di più sul travaglio e sugli altri aspetti legati alle ultime fasi della gravidanza. Abbiamo tentato, sperando di riuscire, ma farle sentire un po' più a casa. Quindi ce le coccoliamo, ce le proteggiamo e questo è un modo per farlo. Abbiamo tante cose innovative da offrire. Abbiamo una macchina del protossido che la facciamo usare durante il travaglio per cui la contrazione viene sentita con meno dolore. E negli ultimi anni il reparto è diventato un punto di riferimento non solo per le future mamme della provincia di Isernia, ma anche per donne in dolce attesa provenienti dalle regioni limitrofe. C'è grande umanità perché non c'è solo la sicurezza e l'assistenza tecnica, ma c'è l'umanità perché le pazienti spesso un sorriso, una parola, una frase detta in un certo modo cura più dei farmaci e del bisturi. Presenti tra le corsie del reparto anche alcune neomamme che hanno voluto raccontare la loro esperienza, tra queste anche una speciale. Questo è il reparto in cui lavoro, in cui ho partorito e quindi oggi nel giorno di festa ho voluto portarlo qui. Il parto come un'esperienza da vivere a 360 gradi e che diventa un ricordo indelebile che si esprime anche con innovative forme artistiche. Questo è un dono che noi ostetriche facciamo alle donne. Iniziamo a tamponare la placenta e con la fantasia massima, i colori, le tempere, iniziamo a colorarla, ispirandoci ovviamente magari al sesso del bambino, a come è andato l'evento travaglio, l'evento parto e lasciamo quello che è proprio un vero ricordo. Quindi possiamo dirlo, al veneziale ci sono delle vere e proprie artiste del parto. Sì, delle Van Gogh, delle placente. E parlando di arte, suggestivi anche gli scatti esposti nel reparto e realizzati dalla fotografa isernina Gabriella Fardella. 40 anni fa, nel maggio dell'84, ci fu un terremoto che devastò l'Italia meridionale e anche il Molise. L'Abruzzo è stata inaugurata in questi giorni a Dalfedena la mostra fotografica Storie per tramandare la storia, curata dal foto amatore Giacomo Campana, il servizio di Fabrizio Fusco. Il sisma del 7 e l'11 maggio 1984 raccontato da Dalfedena 40 anni dopo attraverso le fotografie di Giacomo Campana e di altri foto amatori. Fra la gente paura, senso di impotenza, disperazione, le due forti scosse ebbero l'epicentro nel Frusinate, a San Donato Valcomino, nel versante laziale delle Mainarde. Campana, allora 24enne, imbracciò la sua reflex sfidando le paure e i pericoli dell'istabilità delle macerie. La mia passione della fotografia già c'era allora, siccome poi ho cominciato a lavorare con lo studio per se associati come disegnatore, per fare rilievi era necessario un servizio fotografico per cui presi la palla al balzo e comprai questa macchina e cominciai a fare delle foto che dovevano essere solo documenti, poi alla fine sono forse anche documenti emozionanti. La mostra, allestita nella sala espositiva di Largo Brunetti, contiene complessivamente una cinquantina di scatti. Rivelano un paese completamente distrutto. La voglia di ricominciare riesce a far superare tante difficoltà. Il paese venne evacuato sull'aglia di Via Casili, divergenze e appartenenze politiche sepolte nelle macerie. Nell'Atendopoli emozionanti momenti di solidarietà e aiuto reciproco. Già il fatto di dormire in roulotte, avere come vicino un'altra roulotte, uscire la mattina per fare la colazione, il pranzo servito dai militari come una specie di rancio in caserma, è stato sì, un momento di aggregazione sicuramente. Totalmente diverso da quello che stavamo vissuto fino a qualche giorno prima. Anche chi non era ancora nato, come il giovane vice sindaco Monascelli, conserva gelosamente le memorie tramandate dagli anziani di oggi. Il terremoto del 1984 ha un vissuto talmente permeante all'interno di ogni persona. Come dice anche il titolo della mostra, Storie per tramandare la storia, ce lo hanno saputo raccontare talmente bene che appunto sembra che l'abbiamo vissuto anche noi. E chiudiamo ricordandovi che questa sera sul canale 12 alle 22.15 torna il programma condotto da Michele D'Alessio, Vox Populi. La prima parte della trasmissione si aprirà con un'intervista a Fernando Crudele, presidente dell'Ordine dei Medici di Serbia. Nella seconda parte, realizzata nella sede del gruppo imprenditoriale Cifolelli, Michele D'Alessio ha intervistato Aldo Cifolelli, nipote del fondatore e dirigente del gruppo. Potete vedere Vox Populi anche in web tv, direttamente dal nostro sito www.tvmelisse.it oppure guardarlo sul nostro canale YouTube oppure su Facebook. Insomma, da qualche parte ci beccate sempre. Ringrazio i tecnici in regia, ringrazio i telespettatori, vi saluto cordialmente e passo la linea all'informazione della vicina l'AQTV. Grazie a tutti.